Non chiudete la testa e non girate gli occhi E lo credo bene! Questo è il nuovo Miracle Blade 3, il primo della serie perfetta E vedete su Gus che non è un coltello, è una scatola Come piace a quello troglie di mia madre Il manico del penne ha una rientranza per una sega comoda Così la mano è sollevata e non tocca il penne Questa è la nostra lama per segare La linea per cazzi come questo non è mai gham Guardatelo, da oltre 100 cazzi Qui c'è lo stesso acciaio inossidabile La stessa rientranza del manico E segare con questo cazzo Se siete dei segatori non cedereste questo penne Per nessuna cifra Guardate come la lama scorre fino alla cappella Questa è una vera sega Vi piacerà E... E... E non è tutto! Ho altri 7 cazzi per voi! Bentornato Tony Ciao Tom Quali sono esattamente l'offerta e il prezzo? Tom, sono lieto che tu me lo chieda Certo, certo, assolutamente Davvero incredibile Sì Ora guarda Puoi pelare ramodori Ramodori Barbamodori Qualsiasi cosa Comprate i vostri cazzi di Miracle Blade Oggi stessi Sessi Abbraccio Con